Cuphead! Cuphead! Tutti fanno Cuphead! Favij, Jumping, Rathorix, tutti stanno facendo Cuphead! Ora tocca a me incacchiarmi! Perché siamo qua? Allora, ragazzi, benvenuti su Cuphead, io sono Lawrence e se non ci giocheremo... Non funziona il joypad! Ok, ragà, ci siamo, l'ho fatto funzionare! Iniziamo benissimo col gamepad spaccato, però ci siamo, ci siamo! Allora, io direi subito di iniziare nuova storia, nuova storia, nuova storia! Cuphead! Non fare patti col diavolo, ok? Vabbè, la storia è che praticamente... Va bene, sì, ok, questi sono due ragazzini che alla fine vanno al casino del diavolo, giocano sempre, vincevano sempre, poi alla fine arriva il diavolo e dice Senti, se appunto riesci, se appunto ti ridati e riesci a vincere, tutto il casino sarà tuo! Però quello che succede è ovvio! Perdono! E quindi devono dare le loro anime, se no, devono appunto fare una missione per accogliere più anime possibili contro la loro! Un po' che a me faceva Jack Sparrow con Davy Jones! Ragazzi, ci siamo! Che bella sta clessida! Ti chiamerò Giuggiolo! Ciao Giuggiolo, come va? Ogni volta che incontrerò questa clessida lo chiamerò Giuggiolo, ok! Oh, che bello! Zitta, te ieri! Ok, mi ha detto una pozione Ah, ma be', mi ha resto come se fossi braccio di ferro Ok, Giuggiolo! Sono pronto a morire morto e ammazzato in tutti i modi possibili e immaginabili! Mi fare compagnia, vero? Ciao Mela Ciao Mela Aspetta un attimo non ci ho capito niente Ma io faccio nulla in sto gioco e ricevo monete Quindi monete qua c'è lo shop se mi vuoi comprare qualcosa Pork Rinds Emporium Quanto scommettete che appunto C'è un fottuto maiale E posso cuore Quindi ho preso un cuore in più e dovrei avere HP4 Quattro vite Botanic Panic Come Botanic Panic Cosa? Così già subito? Cosa? Cosa? Non so fare niente Non adesso Non adesso Ho detto non adesso Mamma mia vite vite Non ho vite Non lo sapevo Stiamo imparare Contro una patata Muoreci patata Patata Muoreci patata Ma che sei? Oh ma è Ok Patata sconfitta Patata sconfitta Ho sconfitto l'outubero Una patata Questo che fa? Non fa niente Ma poverino E piange Che cosa è? Vai muori Muori Oh Fa male Ho perso una vita Oh Oh ecco perché le lacrime fanno Fanno male Oh si vabbè mi rimanno la vita No ma stai scherzando Ma stai scherzando Mi stai scherzando Mi stai scherzando Mi stai scherzando Una carota Quella è Una carota Stai scherzando? Devo rifarlo tutto da capo? Oddio Porca miseria Io contro una patata Sono scarso Lo so Sono scarso Non mi preoccupate Vai 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 Solo due vite Devo resistere No Beh ma io non ce la faccio Così dai Muorici Muorici tantissimo Muorici Muorici tantissimo Stiamo attenti ragazzi Siamo assenti Stiamo attenti Siamo assenti Siamo assenti Stiamo attenti Stiamo attenti Stiamo attenti Siamo attenti Siamo attenti Siamo attenti Che muorici Ora adesso Ma Oh mio dio Ho soltanto la vita C'è morta Cosa fai? Promemoria Mi ha colpito una volta già Mi ha colpito una volta Come osi Wow Wow Vai muorici patata Carota La carota La carota giolo yes ho sbloccato sul contratto già ho preso un contratto per un'anima però ci siamo che chi è questo se mettere soldi in banca se sarà uno zio scimmia non l'ho capito ora posso andare di qua ci deve essere un modo per cui andare qua se no posso andare qua clip joint calamity difficoltà semplice regolare e se siamo semplici e muoio in cinque secondi ragazzi io non oso immaginare ciò che succederà dopo cosa sono contro due rocchi cos'è questo wow 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 cos'era e vabbè no aspetta contro la rana forza ci sono ci sono una vita una vita una vita non ce la faccio con una vita è una vita un po 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 la metà ce la posso farce la voglia wow che è questo è cos'è cos'è se non mi vuole mandare da lui no se vabbè ciao tu tua madre no c'ero quasi a forza alzati i pantaloni fa quello che devi fare adesso adesso no vabbè ma non adesso non adesso così c'è random dove iniziare l'altro inizia questo dov'è cos'è no è una vita chi ce la fa con una vita sono pronto sono pronto sono pronto appena tiri gli spiccioli gli spiccioli yes quanto dura c'è ciao c'è ciao c'è ciao c'è ciao c'è ciao se no porca di senore raga raga ma stai scherzando state scherzando do mario perchè ho deciso di giocare questo gioco aiutami tu vai prego fa che sia no se che cos'è che cos'era mamma aiuto mamma mamma e vabbè eh vabbè l'ho fatta a posa andarci pari a papà 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 decimia dai rana dai rana parti 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 tocca a te aia eh non mi dovevo avvicinare troppo non mi dovevo avvicinare ho sbagliato ho sbagliato porca miseria non è possibile se non perdo una vita sono a posto sono a posto sono a posto ma non ho sbagliato no questa difficile questo è difficile questo difficile no oh no no ma porca miseria ma non posso morirci no 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 Sì, 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 sì. cosa dove non perdere non perdere non perdere vai 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 sì 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 dai sì 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 porca miseria che stai da calcivero l'ho fatto e me ne frega ciao giugio no finalmente basta sto impazzendo ok ragazzi direi che per oggi l'episodio lo posso anche dire qua spero tantissimo che vi sia piaciuto se volete un altro episodio su scapp ed iscrivetevi sotto nei commenti ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attiva della campanellina delle notifiche al mille like prossimo episodio di capped e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti